bella tutta ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video oggi di nuovo con ford art ragazzi siamo nella terza puntata della serie chunk error ragazzi eravamo rimasti che agli eravamo rimasti raga che mancava di fare lo scudo quindi allora l'isola nuova dove l'isola nuova l'isola nuova ok e dobbiamo uccidere i mostri i mostri dopperanno un lingotto di ferro sono caduto ma perché non piazzi blocchi spiegamelo che io vado a colpo sicuro bellissimo i blocchi sono piazzati comunque ci dovranno dare dei blocchi di ferro e noi con questi blocchi di ferro ci crafteremo lo scudo ti ammazzo quindi ragazzi adesso dovremmo aspettare che nascono questi mostriciattoli e uccidiamoli tutti 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 uscito 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 è uscito il resto di me bravissimo si non l'ho droppato lo scudo come si crafta allora quindi si dovrebbe fare così sì 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 ok ragazzi scudo quest completata guarda qua io l'ho proprio cioè dobbiamo farmare una iron cioè dobbiamo craftare una iron chest plate questo significa ragazzi che dobbiamo uccidere tanti ma tanti di quei mostriciattoli o si è creata qualche nuova isola no guarda là dove dove guarda vedi qua aspetta che io sto rubando le risorse ah qua ragazzi adesso andiamo subito all'altra ok ragazzi siamo qua in questo brutto posto ok ragazzi adesso dovremmo tipo farmare delle zoccole no mettiti qua mettiti qua mi è dato john iron comunque la dovremmo farmare come delle zoccole quindi a dopo ok ragazzi abbiamo fatto la nostra tattica rieccoci abbiamo sei lingotti di iron adesso abbiamo soltanto bisogno eccolo abbiamo bisogno che un altro troppi un lingotto niente ragazzi siamo qua già da mezz'ora aia c'è ragà è una mezz'oretta che siamo qua a ucciderli a questi ma niente c'è dopo una volta ogni tanto però ragà hanno troppato delle teste dove tra poco vi farò vedere cosa potremmo fare con le teste di visto fiore eccolo niente a questa parte noiosissima la lascio così voi potrete vedere quanto tempo ci vuole prendo un po di risorse niente non ho più nulla da poter utilizzare non droppa nulla 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 spero che io stia registrando ragazzi guardate quante volte siamo morti vediamo se sto registrando aia mamma aia mi ha ucciso aia mi ha ucciso anche a me comunque si stavo registrando benissimo no non ha esplosa la casa oddio 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 guarda sotto guarda sotto sono morto un'altra volta perché hai tolto le torce sotto la casa no io non ho tolto nulla no spawn e muoio ma io non ho tolto nulla c'è sotto la casa no 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 basta 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 madonna ma le nostre gesto sono ancora qua e non andare più sotto ma non è colpa mia tu sei andato sotto ma non l'avevo vinto tappa qua ma non a sta casa è diventata una merda ma già era una merda comunque ragazzi sotto non si ci va più l'ora in poi quindi ho messo adesso una torcia mi sa cazzicane vabbè comunque andiamo di nuovo là ma vabbè ci sono creeper guardali guarda quante ce ne sono vieni vieni eh ci sono i creeper eccala vai non cagarli salta salta cammina dritto vieni eh ho capito mi fanno paura capisci capisci il senso di far paura che esplodano malamente vieni che lì dentro ci sono c'è qualcuno che ci aspetta vieni vediamo aspetta volevi pregare vai qua all'angolino vai agli angolini sta andando quello nostro ma non qua non qua aspetta ho sbagliato buco ma perché mi uccidi eh eri dentro da me ahhh raga non dobbiamo ce la faremo ma perché ogni volta mi mi affondo qua sotto cioè raga non droppano nulla abbiamo bisogno di un altro iron uno uno non qua oh dove vai ma veramente che sto ancora arrivando dove cacchio sta ah ecco il mio boom quindi chiudi chiudi niente ma perché la sabbia voglio aglio perché sta parendo non sta succedendo niente oh mi dai un blocco o lo piazzi qua dall'angolo perché dall'angolo riescono a ucciderci eh minchia come cagli blocchi ma non in legno che è la cosa più importante su sto gioco eh eh io questi c'ho ah no c'ho gli altri tiè tiè è uscito è uscito è uscito manca per la sassice che falle però bastardo bastardo esci dai esci faccio da cabbia esci ti piace eh volevi fregarmi oh un cuore un mezzo cuore don't hit me niente niente no niente di niente la parte nuoriosa vi piace vero uh tantissimo guardo non vedo l'ora adesso sapete com'è come ci sentiamo noi ecco disagiati amareggiati stufati pure ma si può dire stufati 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 siciliano non si può dire dai dai questa volta è buona che lo troppa questa volta è buona non ha troppato una non ha troppato una cerca ma tu ce lo scudo usalo sennò dammelo a me ma non so si non ho troppato nulla non c'è più la spada oh te ne ho fatte 20 di spada non ce ne ho più si è rupto lo traporto dove cacchio si andava già mi sono perso ah di qua mi ero perso dai che ti vengo a dare io supporto ma che cacchio non lo becco ma non lo becco non lo becco non lo riesco a colpirlo ma aiuti si l'ho messo all'angolino oh l'ha troppato no si ce l'hai tu ok ragazzi andiamo via andiamo via andiamo via allora ora craftiamo una chestplate di iron in chia dorata magari arancione stavo scherzando lo sai perchè non abbiamo bisogno un'altra ahia no no please ah io ti ammazzo con il mio piccolone ti ammazzo lo sbagliate calcoli raga adesso ci craftiamo una iron chestplate e quest completata ok adesso facciamo una cosa cazzo si è sbloccata la nuova isola ma la nuova isola la vedremo nel prossimo episodio oddio guardate che bella ma quindi vi mostro adesso un'altra cosa prendiamo tutte le teste che abbiamo ok abbiamo solo quelle che ho io e andiamo qua dove sei? sono caduto ok bellissimo e andiamo qua ragazzi cioè raga è un'ora è da un'ora che registriamo non so neanche io come tagliarlo tutto sto video ok guardarti vieni e andiamo qua su questo cartello allora qua ci sono hand of head of iron archer quindi iron archer head dobbiamo prendere la testa e metterla qua togiti 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 boom e ci da qualcosa ci da rare box dove vediamo head of pig pig qualcosa io c'ho l'ice head raga l'ice head dove possiamo metterlo ice io ce l'ho pure io ice head ok non possiamo metterlo da nessuna parte perché qua lo possiamo mettere ah si cos'è questo ah un altro rare box bellissimo niente vediamo andiamo di nuovo in casa e vediamo cosa so queste rare box ragazzi li piazziamo e non è un cazzo bene tempo sprecato benissimo bene 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 non serve a nulla ok ragazzi comunque per questo episodio è tutto noi ci bocchiamo basta basta ok ragazzi per questo è tutto ok ragazzi per questo episodio è tutto perché non so parlare ok ragazzi per questo ma basta non parliamo di sopra ok ragazzi per questo episodio è tutto noi ci becchiamo nel prossimo video ciao a tutti ciao morto ciao a tutti ciao a tutti